il vento il vento 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 mi scusi dove sono le caramelle perchè non le sappiamo vedere non le sappiamo cercare oddio non ci vediamo non le hanno il posto impossible Poi tipo... Parada, l'età, l'età Poi tipo entro io Parapara, parapara Parapara Baby, è incessivo Sì Vabbè, vediamo altre cose No, il Bocus, ragazze Ah, balliamo, balliamo No, no No, no Ma io non trovo il drum Ah, no, qui Ah, no Fai la faccia vincente Dalla persona che ha trovato delle caramelle Salve a tutti Io sono Filippo Pionorilla E benvenuti in questo nuovo video E lei è Martina Mazzola Iscrivetevi al mio canale Niente, oggi siamo qui con questo tipo rosso Sì Non abbiamo trovato caramelle più easy Allora abbiamo preso queste di Mazzola Pubblicità occulta Comprate le caramelle di Mazzola Ma te ne vai Sì Levati La cameraman che fa scherzi La camera woman La camera woman Ok, allora In teoria Spiega Noi dobbiamo affidarsi A quanti caramelle possiamo arrivare dentro la bocca Capita? I capelli easy Ehm Se ciò quando fa un vero di merda Che scherzo Yooka Ok eh Cansoni Dell'Oriente Ma che cazzo Ok iniziamo Iniziamo che coso? no è stato il coso che l'ha partito ecco allora i miei capelli non guardateli un jappi in panni un jappi in panni un jappi in panni voglio già sudare tutto due jappi in panni sono troppo grandi non sono troppo grandi perchè ti piacciono le cose grandi vero filippo? tre jappi in panni tre jappi in panni ma cosa io devo fare? quattro jappi in panni quattro jappi in panni no sono uscita cinque jappi in panni non troppo tanto non c'è altro no continui no no vedi che fai fai no 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 caro filippo sì ma sono tante ... quanto c'è l'ha a cuocco ho tre tanti ho tre tanti ho tre tanti ho tre tanti Cioccolato Ma il cioccolato Ma io ne volevo uno Che schifo Ma che cosa c'hai nel culo Da merda Guarda alzati E' il cioccolato Oh l'ho tirato in quella di sopra Coglione Ma che... Ai Dio cazzo! Ma abbiamo finito le cose! Che schifo, buttali! Voglio spuntare, voglio spuntare! Dai, apparisci! Coco! I miei Ray-Ban! Prendi i Ray-Ban! Guarda l'esame! Perché dovete aggiornare sempre tutto? È rimasto afficinato! Sì! È girato! Allora... Il video è finito! Il video è finito! Mi devo andare a lavare, ragazzo! Zitta! La camera me non parla! Non sento! Ciao! Ci vediamo in un prossimo video! Il video è finito! Il suo canale lo è in descrizione! E niente! Al prossimo video! Ciao ragazzi! Mi devo andare a lavare!